Poco dopo le 5 del mattino Putin compare in tv e annuncia quella che chiama operazione militare in Ucraina affermando di dover proteggere il Donbass. Il presidente della Russia esorta le forze di Kiev a consegnare le armi e andare a casa assicurando che i piani di Mosca non includano l'occupazione dell'Ucraina ma afferma di voler smilitarizzare e denatizzare il paese con un'operazione speciale. In realtà l'operazione speciale è la guerra, un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, ha aggiunto Putin e ha avvertito che chi interferirà in Ucraina pagherà le conseguenze. Esplosioni dunque udite nella notte a Kiev e in altri luoghi vicini. Il viceministro dell'interno ucraino ha confermato stamattina sulla sua pagina Facebook che l'invasione è iniziata e ha annunciato che sono in corso bombardamenti su postazioni militari e aeroporti vicino a Kiev. Da stamattina all'alba suonano le sirene antiaeree a Kiev, la capitale ucraina, dove sono state udite le esplosioni. Il presidente Zelensky dell'Ucraina dice il popolo è forte e pronto a qualsiasi prova vinceremo. Susseguono le riunioni ovviamente della Nato. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha denunciato l'attacco, l'ha definito ingiustificato della Russia all'Ucraina. Ciò causerà una catastrofica sofferenza e perdite umane. Prossimi aggiornamenti sulla Sud Quotidiano Online.